Non semplici capi di bestiame, ma animali con un nome e con una storia sono le vittime dell'attacco del lupo avvenuto la notte scorsa alla fattoria didattica di Walter Bernardi, allevatore per passione, con un'attività in località Villa di Villa a Borgo Valbelluna. Due daini e cinque pecore il triste bilancio del passaggio del predatore, nonostante le alte reti il lupo è riuscito ad arrampicarsi e ad aggredire le bestie, divorando una pecora e ferendo mortalmente gli altri capi. Il recinto dei daini è un recinto molto solido, molto alto, per permettere agli animali di non venire rinchiusi di notte, ma di poter continuare a pascolare nel loro piccolo parco di 5.000 metri. Secondo noi e anche secondo gli esperti che lo avevano visto, era un recinto a prova di lupo. Evidentemente non è così, due metri e quaranta d'altezza non sono bastati. Si tratta di privare gli animali di parte importante della loro libertà e del loro essere naturale, cioè del pascolo. In questa situazione qui da tre anni noi siamo costretti invece a non garantire questo, ma a chiudere gli animali, veramente a chiuderli nelle stalle di notte e lasciarli fuori solo durante le ore più calde e quando c'è luce. Il futuro preoccupa l'allevatore, il problema, ora che a quanto pare il lupo riesce a farsi beffe delle protezioni, sembra infatti non avere soluzioni immediate. Per noi adesso inizia un periodo di grande incertezza e ovviamente di notti insonni. Evidentemente bisognerà ulteriormente rinforzare le recinzioni, farle ancora più alte, trovare altri sistemi. Però questo ovviamente per chi lo fa per passione come noi e non ha uno scopo di lucro significa investimenti importanti dal punto di vista economico, ma soprattutto anche dal punto di vista del tempo e nel frattempo ovviamente gli animali ogni notte rischiano.